Altro che pretendere scuse. Le scuse l'ex assessore le dovrebbe chiedere lui, ma non a noi che all'epoca eravamo all'opposizione, ma a tutti gli abruzzesi. L'ex presidente della Commissione di Vigilanza e l'attuale assessore regionale Mauro Febo torna sulla vicenda della sanità e spiega nel dettaglio il motivo per il quale l'ex assessore Silvio Palucci si sbaglia nel parlare di conti a posto. Io dico le cose leggendo le carte, che sono carte ufficiali. I bilanci delle alze sono depositati. Partiamo dal 2016, c'è un dispositivo della Corte dei Conti, quindi non di Mauro Febo, non delle opposizioni di allora, che dicono che quei bilanci, già con un saldo negativo di meno 32 milioni di euro, devono essere portati a meno 60. Aspettiamo il 2017, che è comunque già chiuso con i bilanci ufficiali delle alze già in consegno negativo. Già le alze hanno anticipato, ma i bilanci ancora vengono presentati, che anche il 2018 presenterà un segno negativo. A ciò aggiungo, altro dato ufficiale, che nei tre bilanci del 2016, del 2017 e del 2018 sono presenti decine e decine di milioni di euro che vengono chiamate tecnicamente sopravvenienze attive, perché sono somme che si richiedono per anni pregressi alla curatela fallimentare di Villapini. Decine e decine di milioni di euro, che io chiedo all'assessore Paolucci, ai vertici aziendali delle alze, se sono soldi che verranno mai recuperati. Alle domande concrete deve rispondere Paolucci, così come devono rispondere alle domande concrete. Quei sindaci, faccio l'esempio di ieri, dell'Aventino, che sono a Casoli, hanno ricevuto il nuovo assessore, la dottoressa Veri. Stranamente, fino al 10 febbraio, l'assistenza sanitaria in quei territori, dove è stata fatta macelleria sociale da parte di Paolucci, funzionava tutto. Oggi, cambio di governo regionale, oggi si lamentano che non c'è assistenza. Credo che su questo Paolucci dovrebbe fare un bel esame di coscienza. Rispetto anche alle considerazioni dei giorni scorsi, l'assessore Veri, che parlava comunque sostanzialmente di conti a posto, anche delle buone considerazioni che giungono dal Ministero, è chiaro che si parla di dichiarazioni in qualche modo di opportunità per tutelare la Regione. Ma certo, l'assessore Veri che cosa deve dire? Che deve chiedere al Ministero che torni il commissario. E' chiaro che se per il Ministero i conti vanno bene, vanno bene anche per noi e quindi non vogliamo il commissario. Grazie a tutti.